Ciao da Stefano, oggi siamo in un altro appezzamento delle fattorie che non vi ho mai mostrato perché è molto grosso e lo farò da furgone. Quindi qua vi sto mostrando erba medica, è tutto un grosso campo che circonda altri campi in cui noi coltiviamo ortaggi e è un campo che noi mettiamo in rotazione, l'abbiamo messo già da un paio d'anni con questa cultura che è eccezionale. Per due motivi, sia per chi se ne alimenta, quindi le mucche, quello che fa il terreno, sì perché è una leguminosa e come tutte le leguminose sono azoto fissatrici, quindi prendono l'azoto dell'atmosfera, lo elaborano e lo fanno arrivare al terreno grazie alle loro radici e lavorano in profondità il terreno, lo spaccano per bene, immaginate fa una lavorazione simulando un po' un mezzo meccanico. Lo fa naturalmente, quindi tutte caratteristiche che poi noi ci ritroveremo quando andremo poi a dover ricoltivare qualcos'altro.